Ragazzi, prima che il video inizi volevo soltanto ricordarvi di andarmi a seguire su Instagram Questo è il mio profilo, mi raccomando andatemi tutti a seguire E niente, vi lascio al video Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video Come potete vedere regà oggi video completamente diverso dal solito Perché sì, siamo in un video vlog Tra l'altro uno dei pochi video vlog che ho fatto qui sul mio canale Allora ragazzi, direi un'altra cosa Che purtroppo, cioè purtroppo devo dire a voce bassa Perché sennò mi sente mia madre Perché io ragazzi voglio farvi un prank In pratica, non so se avete presente Quello in cui fai finita di non perderti il naso con un pezzo di pasta in bocca, no? Ecco, voglio fare esattamente quello Adesso ragazzi dobbiamo sbrigare e andare subito a farlo Niente, non perdiamoci in piacchere Attuiamo subito questo Cosa? Cosa hai fatto? Ma cos'è il fatto? Si è stati fregati No Mi ha fregati Perfetto ragazzi come avete visto Dalla clip precedente Lo scherzo è venuto da addio Il prank è venuto davvero bene Proprio invece di serci sono rimasti malissimo Però niente ragazzi Dai questo breve prank È finito Grazie